La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezz'ora e disse pace a voi. Gli apostoli erano sprangati in casa per paura e Gesù invece oltrepassa ogni chiusura, ogni limite e porta la sua pace. Questo particolare narrato nel Vangelo ci ricorda uno degli effetti della morte e risurrezione di Gesù, morte e risurrezione che abbiamo ripercorso nel triduo pasquale che ci siamo da poco lasciati alle spalle. Con la morte e la risurrezione di Cristo non vi è più alcun limite, Gesù rompe ogni limite per raggiungerci ovunque, anche nel luogo più remoto e più chiuso, morte compresa. E sicuramente tra i limiti c'è il peccato. Oggi che è la seconda domenica di Pasqua si celebra la festa della Divina Misericordia, istituita nel 1992 da San Giovanni Paolo II sulla scia delle rivelazioni avute dalla santa Sor Faustina Kovasca, nelle quali Gesù le rivelò il desiderio, il suo desiderio che tutta l'umanità potesse conoscere il suo sconfinato amore, la sua infinita misericordia. Se non sapete nulla di questa santa vi consiglio vivamente di scoprirla. Ecco, con la morte e risurrezione di Cristo il perdono di Dio, la sua misericordia si è diffuso ovunque. La possiamo ricevere tutti, è come l'aria che ci consente di esistere, di vivere. Però noi sovente rischiamo di vivere in perenne apnea e in più ci lamentiamo pure che l'esistenza risulta essere affannata. La misericordia è come l'ossigeno, si è sprigionata dalla croce e dal sepolcro per la nostra salvezza. Eppure noi pensiamo di poterne fare a meno. Chi può fare a meno dell'aria e dell'ossigeno? Nessuno, eppure noi. Pretendiamo di vivere senza misericordia, senza ricorrere al perdono e alla misericordia di Dio. Ricordiamoci bene che non c'è salvezza senza misericordia di Dio. Stiamo attenti a non fare del cristianesimo nel cammino di fede una questione di puro sforzo personale, una sorta di moralismo, di zelante coerenza, quasi a dimostrare al Signore che non abbiamo bisogno di Lui, ma che ce la facciamo da soli, nulla di più falso. Vi invito anche oggi a guardare alla seconda lettura. Verso la fine del brano Pietro afferma che la meta del cammino di fede è la salvezza, la salvezza delle anime. Ma attenzione però, ricordiamoci che non la si può raggiungere contando esclusivamente sulle nostre forze, ricorrendo a strategie puramente umane. Abbiamo bisogno della misericordia di Dio per arrivare alla nostra salvezza. Salvezza, come ricordavo già venerdì, deriva dal latino salus, attinenza con la salute. Per vivere bene, tutti cerchiamo di vivere bene, no? Ma non basta confidare esclusivamente nei nostri mezzi, nel benessere, per esempio, materiale, economico, nel progresso, nella tecnologia, nella cura della salute fisica, per quanto queste cose siano anche importanti. Ma per vivere bene in salute abbiamo bisogno di sentirci amati e questo non solo dalle persone, ma anche da Dio. Percepire che nonostante i nostri limiti, le nostre ferite, i nostri peccati, noi andiamo bene, abbiamo un valore e questo ce lo fa accogliere soltanto Gesù con il suo perdono, con la sua misericordia. Questo lo possiamo toccare quasi con mano, in modo particolare, quando celebriamo il sacramento della confessione. Guardate, si può ricorrere anche alla psicologia, ad uno psicologo per conoscerci meglio, per comprendere alcune cose di noi, però dopo aver individuato le ferite che ci portiamo nell'animo, che ci sono nella nostra storia, non basta perché dobbiamo anche guarire da quelle ferite e nessuno psicologo, nessuno può guarire le nostre ferite interiori se non Dio e il suo perdono, perché Lui ci aiuta a guardarci, a guardare le nostre ferite, i nostri peccati, con misericordia, sotto la luce della sua misericordia. Non a caso una delle tentazioni più grosse che il demonio insinua nei nostri cuori, nella nostra mente, è quella di farci pensare di non andare mai bene. Ci butta in faccia i nostri limiti, le nostre miserie, le nostre ferite, i nostri punti deboli, per farci sentire delle schifezze. In più ci fa credere che nessuno sia in grado di salvarci dai nostri peccati. Al massimo, tutt'al più, possiamo aggiustarci, abbellirci, ricorrendo a vari, appunto, stratagemmi per salvare le apparenze, ma niente di più. E invece, con la morte e la risurrezione di Cristo, l'amore e il perdono, la misericordia, si sono diffusi ovunque. Dal perdono, dal sepolcro aperto si è sprigionato l'ossigeno della misericordia di Dio, che per tutti, a disposizione di tutti, senza alcuna distinzione, dobbiamo soltanto respirarla a pieni polmoni, accoglierla in noi per darci nuovo respiro, per avere la forza di affrontare la vita con un altro respiro, per consentire a questa misericordia di creare in noi qualcosa di nuovo, di rinnovare la nostra vita, di smuoverla, di rialzarci, di dare nuova forma, un nuovo respiro. Nessun essere umano, appunto lo sappiamo bene, nessun essere umano può vivere restando sempre in apnea, abbiamo bisogno di respirare, è umanamente impossibile non respirare. Mentre spesso a livello spirituale è come se vivessimo sempre in apnea, ci ludiamo di poterci curare da soli, di aggiustarci da soli, di curare da soli le nostre ferite interiori, i nostri peccati, le nostre sconfitte esistenziali, ma questa cosa non funziona, dobbiamo ricorrere alla misericordia infinita di Dio. Mentre ogni giorno, quando preghiamo, quando ci affidiamo a Dio, ci ricordiamo che Dio ci ama, ci ama nel profondo e questo ha maggior ragione poi quando ci confessiamo, è come se prendessimo delle boccate di aria pura che ci fanno prendere respiro, ci fanno capire che è vero, noi possiamo anche sbagliare, incorrere appunto nei peccati, ma noi siamo molto di più, siamo preziosi per Dio e questo ci permette di avere uno sguardo diverso sulla vita. La vita risulta essere così meno affannata. La pace di Cristo entra in noi e non ci percepiamo più come persone vuote, insignificanti, bensì circondate ed attraversate dall'amore di Dio. Buona domenica a tutti!